Non ci sono parole per esprimere quello che si prova nel sapere che un ragazzo di 24 anni, Luca Sacchi, assassinato nella notte di mercoledì scorso, il 23 ottobre, un colpo di pistola alla testa nel quartiere Appio, alla Caffarella a Roma. Un'esecuzione avvenuta in maniera veloce, repentina, immediata, nel momento in cui lui tentava di difendere la fidanzata Anastasia. Gli aggressori avevano cercato di rubare a questa ragazza lo zainetto. Mentre la magistratura sta indagando, due persone sono state fermate. È una vicenda molto, molto simile a quella che qualche tempo fa ha coinvolto il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Una notte dello scorso febbraio era per le vie della capitale con la sua fidanzata quando è stato colpito alla schiena da un proiettile che ha causato la paralisi delle gambe. Luca Bortuzzo ha voluto su Instagram esprimere quello che stava provando. Non ho mai sentito, ha detto il campione, un episodio così vicino a me. L'ho scritto in una history di Instagram accompagnata dalla foto sorridente di Luca con la ragazza. Se nel mio caso la vita è stata bastarda, ha detto Bortuzzo, con te non ho avuto proprio pietà. Riposa in pace, Luca. Non ho più parole per descrivere quello che provo in questo momento. Mi stringo forte attorno ai familiari. Ed in effetti ha ragione. Non ci sono parole. Ma non ci sono parole non soltanto per un omicidio che non doveva esserci, che non si capisce, che è incomprensibile e che è l'ennesimo atto di violenza che accade in una città italiana, che è anche la capitale d'Italia. Ma per lo show e quello che è venuto dopo, per questo atteggiamento nel fare entrare, oggi si vota in Umbria, tra i temi della campagna elettorale, questo omicidio. Come se fosse una partita di calcio che merita tifoserie. E proprio mentre ancora la famiglia piange questo ragazzo, mentre ancora tutta l'Italia non capisce cosa è accaduto, il tema diventa, se sono stati tagliati i fondi alle forze dell'ordine o meno, come se se ne dovesse discutere proprio in questo momento. E allora da cittadini ci sentiamo così, soli, non ci sentiamo protetti, ma abbiamo bisogno di capire che non possiamo vivere nella paura, che non possiamo vivere nell'insicurezza. Addio Luca.